Un elefante di origine africana, come origine, anche se lui è nato qua, è nato e vissuto qua. È uno dei componenti di una fauna che era di tipo, diciamo, savana africana. Elefanti rinocceronti, popotami, forme tipo zebra, forme tipo gnu, forme tipo facoceri o licaoni o sciacalli. Insomma, si dipinge un quadro molto diverso da quello a cui noi siamo abituati oggi. Un elefante vissuto un milione e 600 mila anni fa nel Valdarno Aretino è quello ritrovato lo scorso anno in località Il Tasso nelle campagne di Teranova Bracciolini grazie a due cacciatori. Adesso è stato trasportato in un capannone a San Giovanni Valdarno ed il cantiere di restauro è stato aperto al pubblico. In questo momento stiamo rimuovendo le incrostazioni di terreno che ancora si trovano sopra il reperto. Come vedete gli strumenti sono abbastanza piccoli, sono specilli, spazzole di varie dimensioni fino ad arrivare allo spazzolino da denti proprio per rimuovere le parti più complicate da raggiungere. Non ha ancora un nome, saranno i visitatori del cantiere a poterlo decidere assieme a tutti coloro che contribuiranno alla campagna SOS Mammut lanciata dall'Accademia Valdarnese del Poggio. In attesa che anche questo esemplare di Mammutus Meridionalis trovi posto al paleontologico di Montevarchi che già conserva da anni un altro esemplare ritrovato sempre in Valdarno. Vogliamo veramente rendere comprensibile e aperto a tutti gli aspetti inediti della ricerca scientifica e anche del lavoro museale. Gli aspetti cioè che solitamente sono dei tecnici e non sono visibili, non sono condivisibili.